daniele dal moro è stato ricoverato d'urgenza in ospedale prima della puntata del grande fratello vip 7 del 21 novembre 2022 il vippone ha svelato questo importante retroscena nel momento in cui stava discutendo animatamente con edoardo donna maria subito dopo la diretta della puntata andando per ordine daniele ieri aveva fatto preoccupare il pubblico in quanto si è assentato dalla casa di cinecittà per diverse ore molti hanno iniziato a pensare che dal moro avesse contratto il covid 19 visto che è stato molto vicino di recente a wilm goic risultata anche lei positiva nei giorni il virus è entrato nella casa più spiata d'italia e al momento sono sei gieffini che si trovano isolati luca onestini attilio romita charlie gnocchi alberto de pisis patrizia rossetti e wilma goic le ultime due sono appena risultate negative e dunque faranno presto ritorno nella dal moro al contrario loro non si è allontanato dalle luci delle telecamere perché positivo al covid 19 ad anticipare questo ci aveva pensato luciano punzo il quale però è stato censurato in tempo per non far sapere al pubblico dell'accaduto poco prima dell'inizio della diciottesima puntata del gf vip 7 daniele è rientrato nella casa il gf no ha spiegato ai suoi coinquilini di aver avuto un problema di salute non rivelando ancora alcun dettaglio e non citando il ricovero in ospedale non posso dirvi niente sono raffreddato sì sono stato a letto qua due minuti poi sono andato da loro ho avuto un malessere fisico e mi fatto le analisi ha inizialmente raccontato dal moro lui stesso ha fatto presente di non poter rivelare ulteriori dettagli tanto che alfonso signorini non ha neanche parlato dell'accaduto nel corso della puntata ma sembra proprio che daniele dal moro sia stato molto ma subito dopo la diciottesima puntata è scoppiata una discussione tra daniele ed edoardo donna maria quest'ultimo insieme ad antonella fiordelisi è rimasto deluso per via di alcune dichiarazioni che dal moro ha fatto in un confessionale